Ehi amico, ho ricevuto la chiamata, ci siamo, la terapata definitiva, sul serio, sarà una cosa da pazzi, sono certo che Ken è già pronto, io vado tra poco, ci vediamo Dai dai dai, dai, sto arrivando Grazie... Distruggiamolo dai! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Dai, cazzo, però... Cioè, questo non è giusto, però... devo perdere punti per colpa degli altri la primavera Calcio. 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 Dai 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 Ecco, come cazzo si fa così? Grazie per la visione Ma come? Fallimento E' scaduto il tempo raga C'è un cazzo di tempo da rispettare Ora non me ne frego più un cazzo E' scaduto il tempo da rispettare E' scaduto il tempo da rispettare Devo non rompere sempre il cazzo le macchine E' scaduto il tempo da rispettare E' scaduto il tempo da rispettare E' scaduto il tempo da rispettare Porca troia Vaffanculo vai Vaffanculo E' scaduto il tempo da rispettare 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 Grazie a tutti